L'umiltà ci fa amare l'abiazione di San Francesco di Sales da Filotea. Procedo oltre Filotea e ti dico di amare l'abiazione sempre e in tutto, ma mi chiederai che cosa vuol dire amare la propria abiazione? In latino abiazione vuol dire umiltà e umiltà vuol dire abiazione, in modo che quando la Madonna nel suo cantico dice che, poiché il Signore ha visto l'umiltà della sua serva, tutte le generazioni la chiameranno beata, vuol dire che il Signore, con bontà, ha guardato la sua abiazione, la sua meschinità, la sua bassezza per colmarla di grazie e di favori. C'è tuttavia differenza tra la virtù dell'umiltà e l'abiazione. L'abiazione è la pochezza, la bassezza e la meschinità che alberga in noi, senza che ci pensiamo. La virtù dell'umiltà, invece, è la conoscenza veritiera e l'ammissione della nostra abiazione. L'apice dell'umiltà, così intesa, consiste non soltanto nel riconoscere la nostra abiazione, ma nell'amarla ed esserne contenti, non per mancanza di coraggio o di generosità, ma per esaltare maggiormente la maestà divina e dare al prossimo una stima maggiore che a noi stessi. Ti incoraggio a questo e, per essere più esplicito, ti dirò che, tra i mali che ci affliggono, alcuni sono spregevoli, altri onorati. A quelli onorati molti si adattano, ma nessuno vuol saperne di quelli spregevoli. Prendi, per esempio, un devoto eremita, coperto di cenci e tremante dal freddo. Tutti onoreranno il suo abito brandelli e proveranno compassione per la sua sofferenza. Ma se un povero artigiano, un povero galantuomo o una povera ragazza si trovano nelle stesse condizioni, verranno coperti di disprezzo, derisi e la loro povertà sarà spregevole. Se un religioso accetta con devozione un duro richiamo dal superiore o un figlio dal padre, tutti chiameranno quel comportamento mortificazione, obbedienza, saggezza. Se un cavaliere o una dama dovessero subire, per amore di Dio, la stessa cosa da parte di qualcuno, di qualunque cosa si tratti, tutti la chiameranno codardia o vigliaccheria. Ecco un altro male spregevole. Pone il caso che uno abbia un tumore al braccio e un altro al volto. Il primo soffre soltanto il male, ma il secondo, con il male, si trova il disprezzo, l'isolamento e l'abiezione. Io ti dico che non soltanto devi amare il male, il che è opera della virtù, della pazienza. Tu devi amare anche l'abiezione e questo è opera dell'umiltà. Ci sono poi delle virtù disprezzate e delle virtù onorate. La pazienza, la dolcezza, la semplicità e la stessa umiltà per i mondani sono virtuvili e da disprezzare. Per contro stimano molto la prudenza, il valore, la liberalità. Ci sono addirittura atti della stessa virtù che a volte sono disprezzati e a volte onorati. Prendi ad esempio l'emosina o il perdono delle offese. Sono entrambi atti di carità. La prima è onorata da tutti. Il secondo è disprezzato dal mondo. Un giovanotto o una ragazza che non si lasciano trascinare disordini di una brigata dissoluta nel parlare, nel giocare, nel ballare, nel bere, nel vestire come loro, saranno scherniti e criticati e il loro riservo sarà chiamato bigottismo o esibizionismo. Amare queste conseguenze vuol dire amare la propria abiezione. Passiamo a un altro campo, la visita agli ammalati. Se ti mandano dal più reietto secondo il mondo, per te sarà un'abiezione. Per questo l'amerai. Se ti mandano da gente per bene, sarà un'abiezione secondo lo spirito, perché il merito e le virtù saranno minori. Amerai anche quella abiezione. Se si cade nel bel mezzo della strada, oltre al male, ci trovi la vergogna. Anche questa va amata. Ci sono alcune colpe che non comportano altro male all'infuori dell'abiezione. L'umiltà non esige che le commettiamo apposta, ma che una volta commesse non ce ne preoccupiamo. Si tratta di certe sciocchezze, mancanze di educazioni o sbadataggini che vanno evitate finché sia in tempo, per comportarsi educatamente e con prudenza. Ma una volta che ci siamo caduti, bisogna accettare l'abiezione che ne consegue ed accettarla di cuore per amore dell'umiltà. Ma vado oltre. Se per collera o mancanza di controllo mi sono lasciato andare a parole indecorose, offensive di Dio e del prossimo, me ne pentirò sinceramente e sarò profondamente dispiaciuta per l'offesa che cercherò di riparare meglio che potrò. Ma non lascerò passare l'occasione per accettare volentieri l'abiezione e il disprezzo che ricadranno su di me. Se fosse possibile separare le due cose, respingerei con forza il peccato e terrei umilmente l'abiezione. Ma pur amando l'abiezione che deriva dal male, non bisogna rendersi alle fatalità del male che ne è la causa. Bisogna correre ai ripari. Occorre farlo in modo efficace e con cura, soprattutto poi quando il male è soltanto una conseguenza. Se sono afflitta da un male spregevole al volto, farò di tutto per guarire, senza far nulla perché si è dimenticata l'abiezione che me ne è venuta. Se ho commesso qualche cosa che non offende alcuno, non cercherò scuse, perché pur trattandosi di un difetto, non è permanente. Se mi scusassi sarebbe solo per evitare l'abiezione che me ne viene. Questo l'umiltà non lo permette, ma se per disattenzione o leggerezza ho offeso o scandalizzato qualcuno, riparerò l'offesa con qualche scusa che risponda a verità, perché in tal caso il male ha radici e la carità esige che lo sradichi. Qualche volta capita anche che la verità esiga che poniamo rimedio all'abiezione per il bene del prossimo al quale è necessaria la nostra buona reputazione. In tal caso, pur togliendo l'abiezione dagli occhi del prossimo, per impedirne lo scandalo dobbiamo rinchiuderla e nasconderla nel nostro cuore perché ne sia edificato. Tu, Filotea, vuoi sapere quali sono le abiezioni migliori? Ti dico subito, senza esitazione, che quelle più utili all'anima e più gradite a Dio sono quelle che incontriamo per caso o che sono legate alla nostra condizione. La ragione è che non le abbiamo scelte noi, ma le abbiamo ricevute come Dio ce le ha mandate e Lui sa scegliere sempre meglio di noi. Se fosse necessario scegliere, ricordati che le più grandi sono le migliori e sai quali sono le più grandi? Quelle maggiormente contrarie alle nostre inclinazioni, sempre ben inteso, in linea con la nostra vocazione. Te lo dico una volta per sempre, la nostra scelta e la nostra preferenza rovina o almeno diminuisce tutte le nostre virtù. Chi ci farà la grazia di poter dire con il grande re Davide ho scelto di essere abietto nella casa del Signore piuttosto che abitare nelle tende dei peccatori? Il solo che lo può, cara Filotea, è colui che per innalzare noi è vissuto e morto come obrobrio degli uomini e abiezione del popolo. Ti ho detto molte cose che potranno sembrarti dure quando ci rifletterai sopra, ma credimi, esulteranno più dolci dello zucchero e del miele quando le metterai in atto. Grazie a tutti.